Un monitoraggio continuo dei livelli dei campi elettromagnetici, una mappatura delle antenne telefoniche e degli impianti radio-televisivi presenti a Trani, per verificare lo stato dell'inquinamento ambientale e per salvaguardare la salute dei cittadini. Gli esiti e i dati della campagna di monitoraggio presentati nel corso di una conferenza stampa organizzata presso la Sala Giunta di Palazzo di Città di Trani sono più che incoraggianti. È stato rilevato infatti come i livelli di esposizione della popolazione siano conformi con il valore di attenzione di 6 volt metro e con il limite di 20 volt metro. Sono state individuate solo due aree di criticità, Corso in Briani nei pressi del Comune e Via De Nicola, zone nelle quali i valori sforano comunque di poco il limite. Il monitoraggio ambientale, un'azione fortemente voluta dall'amministrazione comunale, è realizzata grazie al supporto della società Geotel. Gli sforamenti sono stati qui nei pressi del Palazzo di Città, quindi Corso in Briani, Via Badoglio, però su un lastrico solare dove il limite da rispettare è di 20 volt metro. Quindi abbiamo superato di pochi 6 che invece è il valore cautelativo indicato dalla normativa per i luoghi dove c'è permanenza continuativa superiore alle 4 ore giornaliere. In questo caso il lastrico solare non ha quella destinazione d'uso. Allo stesso tempo in Via De Nicola, a ridosso di un impianto di telefonia mobile, sempre su un lastrico solare dove il limite è 20 volt metro, quindi abbiamo visto degli sforamenti dei 6 volt metro che invece è l'obiettivo di qualità. Spero che ci sia da parte dell'amministrazione l'intenzione di continuare la vigilanza sul territorio, magari anche attuando quella rete di monitoraggio che abbiamo consigliato per avere una dimensione più nel tempo dello stato di salute riguardo questi campi elettromagnetici, non spot soltanto in... però questa è già una prima ricognizione che è necessaria. Siamo particolarmente felici sia di averlo finalmente fatto, quindi un monitoraggio assoluto e completo di tutti gli impianti presenti nel nostro territorio, è chiaro, lasciatemelo dire, siamo particolarmente felici degli esiti assolutamente positivi. Questo non significa che abbassiamo la guardia, anzi, questo del monitoraggio deve essere, sarà assolutamente oramai un'abitudine, una sana abitudine che una buona amministrazione molto vicina alle tematiche ambientali deve avere e avrà, lo continueremo a fare. Ci auguriamo che anche il prossimo monitoraggio sia, continui ad essere sempre positivo. Quindi soddisfazione, ma assolutamente non abbassiamo la guardia, continuiamo sempre ad essere attenti, a monitorare, ad essere soprattutto molto attenti alle tematiche ambientali.